Oggi come da tradizione celebriamo la festa dell'arma nella maniera che più ci piace, cioè in mezzo alla gente, perché deve essere la festa di tutti. È un momento di condivisione, di rinnovo del nostro impegno a fare sempre di più per la sicurezza dei cittadini e lo facciamo attraverso un'opera costante, soprattutto tramite le nostre stazioni carabinieri, un'opera costante che va al di là dei semplici compiti relativi alla sicurezza, ma che si estende anche a quel contatto, a quella prossimità che consente alla gente di sentire lo stato vicino. Questo è il compito principale delle stazioni carabinieri, che come sapete sono presenti anche nei comuni più piccoli. Oggi quindi festeggiamo l'arma dei carabinieri nel ricordo dei valori e dei modelli di riferimento che ci hanno lasciato i nostri caduti con il loro sacrificio. In nome loro noi portiamo avanti il coraggio, il senso del dovere, il senso della responsabilità, l'umiltà e tutti quei valori che ci tralasciano i nostri caduti e li portiamo avanti con il servizio quotidiano in favore delle collettività.